Tanti gli imprenditori e gli esercenti che già risentono del lungo stop delle loro attività causato dalle restrizioni imposte per l'emergenza Covid-19. In città i morsi della crisi sono ancora più gravi in un contesto economico fortemente debilitato da ritardi e mancato sviluppo. Tra chi patisce gli effetti di quanto sta accadendo ci sono imprenditori e commercianti che in passato hanno denunciato i loro usurai e che sono riusciti a ripartire attraverso l'accesso ai fondi per i mutui agevolati. Senza lavorare tanti però rischiano di non poter rispettare le scadenze per il pagamento delle rate. Vennero sostenuti nel loro percorso di denuncia dalle associazioni anti-racket e la federazione italiana ha chiesto ufficialmente che la moratoria sui mutui si applichi anche in questi casi. La richiesta è stata inoltrata come fai al commissario nazionale il prefetto Anna Paola Porzio e lo spiega il presidente dell'anti-racket Ghettano Giordano Renzo Caponetti. Nel nuovo decreto Cura Italia vanno quindi previste esenzioni temporanee per chi ha avuto il coraggio di denunciare ma paradossalmente potrebbe perdere il mutuo se non riuscisse a pagare le rate. Molti con le attività ferme non hanno la materiale disponibilità delle somme necessarie. Secondo Caponetti lo Stato deve garantirli. Per gli esponenti dell'anti-racket sarebbe una beffa che dopo aver denunciato chi li strozzava dovessero perdere il mutuo e le loro attività economiche. La proposta è stata accolta e dovrebbe trovare spazio nel provvedimento governativo che verrà reso noto a giorni.